Amici ascoltatori dell'opinione equestre, siamo qui nell'arena Boccaccio, gran premio di 1,55m del Gold Tour, seconda settimana del Toscana Tour 2016. Andiamo a vedere insieme il percorso del Cavaliere Italiano Juan Carlos Garcia su Gitano Van Berkenbroek, partenza da mano sinistra. Numero 1, verticale di barriere, mano testa sul numero 2, Oxer Equip, bene, bene sul verticale della nazione, bene sull'Oxer giallo e verde, bene sulla riviera, adesso Oxer numero 6, bene, c'è un bel ritmo di galoppo, stringe per falso largo Carraro, bene, ora i 6 galoppi, verticale, tieni un po' sul cavallo, bene sull'Oxer, bene sull'Oxer Mascheroni, bene sulla tavola, ancora tre salti, bene sull'11, Oxer Fix Design, parte finale, Oxer numero 12, e bene sul verticale, ed eccolo, percorso netto nel tempo di 78,66.